La Lega Nord è contenta dell'aumento delle minime e in parte l'APE, l'anticipo pensionistico, è stata una maniera anche per supplire ai danni della Fornero? Bisogna avere il coraggio di abolire la Fornero, crea una discriminazione enorme, almeno le notizie che vediamo dai giornali, perché noi il testo non ce l'abbiamo e non so se ce l'ha il Ministro, il testo completo. Ma questi aumenti delle pensioni comunque vi vedono favorevoli? Guardi, se nell'APE, io faccio l'esempio, mi dice il Ministro che differenza c'è tra un infermiere e un operatore del 118? Crea una discriminazione enorme all'interno della popolazione, o c'è il coraggio di abolire quella vergognosa riforma Fornero, che Renzi continua a difendere, ma non si può proseguire con queste misure spot che prendono una parte di popolazione e abbandonano l'APE.